Due famiglie legate dal vincolo dello spaccio e l'operazione antidroga portata a termine dai carabinieri di Trani che hanno sorpreso un 23enne con 5 dosi di marijuana mentre era in compagnia di un 21enne che aveva il compito di cassiere. Il fratello minore di quest'ultimo, anche se appena 14enne, si occupava di trasportare la droga dall'abitazione dello spacciatore alla sua con uno zainetto. Lo spaccio infatti era gestito dalle famiglie dei ragazzi. La mamma del 23enne custodiva la maggior parte dello stupefacente e la mamma dei due fratelli invece inviava il figlio minore a recuperare la droga. I carabinieri infatti hanno incrociato sulle scale dell'abitazione del 23enne arrestato il 14enne che era stato già identificato il quale portava con sé uno zainetto nero appena prelevato con 130 grammi di marijuana suddivisa in 114 dosi. A casa del 23enne inoltre i militari hanno rinvenuto anche una pistola scacciacane modificata. Delle persone coinvolte, tutte incensurate, il 23enne è stato arrestato e posto ai domiciliari. Le due donne, il figlio maggiorenne di una delle due, sono stati deferiti in stato di libertà mentre il minore è stato segnalato alla competente procura dei minori di Bari. Sono in corso accertamenti da parte dei militari per comprendere la provenienza dello stupefacente. Grazie a tutti.